Ciao adorabili amici, oggi torniamo su Historic con il mazzo monobianco Life Gain. In questo formato sicuramente ha un sacco di armi per essere competitivo e come il suo alter ego in standard, il buon Elio Mena, come al solito, sgarbatamente. Un mazzo Life Gain è un mazzo che ha come strategia quella di guadagnare tanti punti ferita e avere carte come Eliod e il compagno di Ajani per avvantaggiarsi di questa meccanica. Allora, Eliod e il compagno di Ajani sono i nostri due principali payoff insieme ad Ajani Forza del Branco che con la sua meno 2 mette un token compagno di Ajani che fa la stessa cosa di compagno di Ajani carta normale. Ajani Forza del Branco con la più 1 ci fa guadagnare punti ferita, quindi è a tema col mazzo. Ha poi la sua abilità a zero che dice se hai almeno 15 punti vita in più rispetto ai tuoi punti vita iniziali esilia Ajani e ogni artefatto e creatura controllati dai tuoi avversari. Questo Ajani già lo conosciamo sul canale, fa cose molto fighe in questo archetipo e appunto funziona anche lui da payoff. Abbiamo poi un po' di carte per guadagnare punti ferita, abbiamo il 4 per di Guardiano dell'Anima inserita in Historic con l'Antology 1. Giocata ai primi turni della partita fa guadagnare un numero sproporzionato di punti ferita in particolare quando affrontiamo mazzi basati sulle creature perché ci fa guadagnare un punto ferita anche quando è l'avversario a giocare creature. Giochiamo il 3 per di Daxos che fa la stessa cosa della Guardiana dell'Anima ma solo per le nostre creature, però ha una cosa in più, cioè che ci fa guadagnare un punto ferita anche quando muoiono le nostre creature. E in più Daxos costa 2 mana bianchi che ci aiutano per arrivare alla devozione necessaria ad Elliot per trasformarsi in una creatura. Mi sono dimenticato un payoff che è l'ascendente di Serra che giochiamo in 2 per e un 1-1 legame vitale che costa 1 quando abbiamo 30 o più punti ferita prende più 5 più 5 e volare. È una carta un po' macchinosa che comunque giochiamo in 2 per perché ci permette di fare turno 1 Life Linker, turno 2 compagno di Ajani picchiare con il Life Linker che quindi ci fa guadagnare punti ferita e avere già a turno 2 il compagno di Ajani come 3-3. Per questa strategia la carta migliore è sicuramente il Falco Guaritore perché ha volare oltre che Life Link e quindi essendo evasivo è più difficile da bloccare e quindi è abbastanza garantito che riusciamo a dare il segnalino al compagno di Ajani. Gli altri drop a 1 abbiamo il 2 per di Alseide dell'abbondanza vitale anche lui 1-1 Life Linker che però ha la sua abilità attivata che ci permette di dare a una creatura o a un incantesimo protezione da un colore a tua scelta fino alla fine del turno pagando un mana qualsiasi e sacrificandolo. Da notare che protegge anche i nostri incantesimi quindi protegge anche il Tribunale del Conclave se l'opponent vuole togliercelo dal campo. L'Alseide non solo protegge le creature ma protegge anche il Tribunal. L'ultimo drop a 1 è l'Ammazza Giganti carta eccezionale secondo me in White Weenie in generale nei mazzi aggressivi bianchi con la sua avventura distrugge a velocità istantanea una creatura a bersaglio con forza pari o superiore a 4 e la sua parte creatura invece è un 1-2 a costo 1 che tappandolo e tappando un mana in colore e uno bianco tappa una creatura a bersaglio quindi ci serve per tappare creature aggressive che ci vogliono picchiare oppure tappare creature dell'avversario in difesa che possono bloccarci. Carta super versatile, davvero fortissima. Ne giochiamo solo l'1 per perché giochiamo il 2 per di Ranger di Eos inserita in Historic Anthology 2 costa 4, è una 3-2 soldato umano quando entra nel campo di battaglia ci fa tutorare fino a due carte creatura con costo di mana convertito pari o inferiore a 1 aggiungerla alla tua mano e poi mischiare il deck quindi col Ranger di Eos spesso andiamo a tutorarci l'Ammazza Giganti e un altro 1-1 che ci serve diciamo che le due carte più utility sono appunto il popolano umano e la ninfa bianca questo ci permette di fare un po' più value e trovare due carte che possono essere un po' situazionali con Ranger di Eos appunto in quelle situazioni le andiamo a prendere e aggiungere alla mano. L'altra carta inserita con la Historic Anthology 2 è la signorina Talia carta scodomè molto forte costa 2-2-1 attacco improvviso le magie non creatura costano 1 in meno per essere lanciate che dire mi piace giocarla in main ma può essere una carta da side questa è a vostra discrezione da notare solo che dice le magie non creatura costano 1 in più non solo quelle dell'avversario anche le nostre quindi i nostri vari removal e planeswalker costeranno 1 in più però secondo me è un'ottima giocata turno 2 rallenta il giusto i mazzi basati su tanti removal o tanti board clear io mi ci sto trovando molto bene giocandole in main però come vi dicevo può essere una carta da side il mazzo è super aggressivo patisce un po' Yahweh perché punta a fare una giga board e oltre ad avere Eliod che è indistruttibile avere dei planeswalker come Ajani e Githion della Black Blade per sopravvivere a queste incombenze sgarbate abbiamo l'avanguardia da Danto che giochiamo in 2 per costa 2 o in 1-1 quando attacca prende più 2-0 paghiamo 4 punti ferita e prende indistruttibile fino alla fine del turno una creatura aggressiva l'opponent farà sicuramente fatica a togliersela dai piedi concludiamo poi con la nostra amica Linda che ci fa guadagnare un sacco di punti ferita e in più costando 3 mana bianchi accelera un sacco la nostra devotion al bianco sulla mana base abbiamo 3 castelli di Arden Valley che ci aiuta un sacco in main ed è per questo motivo che io preferisco giocare Campo della Rovina piuttosto che Ghost Quarter che hanno inserito con l'Antology perché il Campo della Rovina ci permette di andare a sostituire il campo dopo che ha tolto la terra non base dell'avversario con una terra basica in questo modo abbiamo sempre mana per giocare e attivare eventualmente il castello poi questa scelta è discutibile sulla side abbiamo altri due tribunale del conclave quando abbiamo bisogno di più rimozioni incagliare il relitto che mi piace un sacco contro gli altri mazzi aggressivi basati sulle creature in particolare Gruul Ajani avversario dei tiranni quando affrontiamo deck particolarmente grindosi Ajani può funzionare da win con potenza la nostra board fa resuscitare le nostre creature dal cimitero fa un sacco di cose mi piace averceli in uno per abbiamo un altro Gideon che giochiamo più o meno per lo stesso motivo di Ajani Gideon tra l'altro non l'ho detto prima ma da lifelink quindi sinergizza anche un po' col deck abbiamo poi due per di formazione indissolubile quando abbiamo paura dei board clear e quindi diamo indistruttibile a tutta la nostra board abbiamo il due per di disincantare per togliere artefatti e incantesimi noiosi e poi il due per di decreto devoto per togliere creatura e planeswalker rossi o neri l'apostolo che ha protezione dal nero quindi è buono già solo per questo contro monoblack devotion in più l'apostolo ci permette di esiliare una carta da un cimitero e ci aiuta contro uro e altre strategie basate sui cimiteri finiamo con l'uno per di silenzio assordante carta che mi piace portare dentro quando affrontiamo deck sgarbatissimi come nexus o deck pseudo combo bene questo è monowhite life gain un mazzo aggro sinergico molto interessante che per ora in storica è anche parecchio presente quindi capita spesso di trovarselo contro e capita però anche spesso che i deck avversari siano pronti e abbiano carte inside contro questo archetipo come sempre se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like o lasciare un commento qui sotto se non siete ancora iscritti e volete altri contenuti su magic arena ricordatevi di iscrivervi al canale tutte queste magiche operazioni mi aiutano un sacco nel incredibile mondo di youtube in descrizione trovate la deck list per esportare questo mazzo su magic arena e trovate anche i link per i miei canali social oltre al link per il mio incredibile e sgarbatissimo canale twitch mano dai che non abbiamo un payoff ma se lo peschiamo facciamo i buchi se lo peschiamo teniamo ok abbiamo anche un simpatico payoff diciamo ilerok daxos edio grul ecco solo per dirlo burning tree emissary rende questo deck particolarmente pericoloso fortuna che siamo partiti abbastanza bene non so se basterà tutto ciò perché lui cosa può fare attaccare con tutti e due io blocco qua lui mi fa sto bone crusher giant qua e siamo un po' fregatini quindi io quello che a sto punto non farò no ok va bene lui parte solo spinto e aggressive attacchi solo col 3-3 non blocchiamo va bene let's go ora vi stupirò ma voglio bloccare gli zurta prossimo turno riusciamo a fare anche un po' di danni lui è nel turno di amber cleave mi viena no mi viena no cosa fai mi rendi ciccioni o picchi nice devo dire mi va bene quasi non riesce ad attaccare sono uno due tre quattro pensa te che devo togliergli viviana paura paura di amber cleave grulla è molto insidioso non mi togliere incantesimo va bene insidiosissimo gg va bene la teniamo la teniamo non è super aggressiva ma fa cose magari peschiamo anche pride mate tipo out of nowhere un po' mi preoccupa quella comunque noi saremo fortunatissimi e andremo a pescare terra adesso non lo santo no quindi naya cosa raise the alarm raise the alarm ok salviamo la warden vediamo se è un po' sprecato almeno abbiamo utilizzato la nostra mana in maniera efficiente wow anche però che tu sei un simpatico mazzo token quindi proprio va bene ciao adanto spero di pescare terra ok facciamo il dione prossimo turno facciamo l'inda siamo abbastanza tutti felici di tutto ciò sì tu sei decisamente un mazzo potenziamo una sola warden ma sei decisamente un mazzo token così la warden a 3 ci piace poi facciamo linda e giriamo con tutto va bene siamo simpaticamente a 26 in tutto questo linda vieni il nostro aiuto guarda te potenziamo la warden così devi tradare un po' di roba pam 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 vai a 1 noi siamo a 29 e abbiamo l'alseide eventualmente ok potenziamo linda a sto punto direi che easy bello il deck dell'opponent però iniziamo per secondi se peschiamo una terra gigamano se non peschiamo terra veniamo puniti brutalmente ok cioè in realtà non brutalmente perché abbiamo un po' di giocate a 1 ok total azure rende il tutto più ambizioso all'aver tenuto sta mano più ambiziosa vediamo cosa ci fa scartare ok terra pride mate attacco vai ok facciamo vanguard è vero che lui magari ha un aoe però abbiamo comunque la vanguard che mena se non ha aoe questa board gli farà assolutamente molto male lui potrebbe scioccarsi e farsi e fare content qua sarebbe interessante no non si sciocca e non fa nulla va bene ma castello ci può anche stare noi attacchiamo con tutto sono parecchi danni fa il cast down lì va bene non posso farci molto e ancora due mana open che non usi idra la ammazziamo col giant killer abbiamo anche il conclave tribunal per dopo eventualmente se peschiamo un'altra terra abbiamo l'attivazione di castello meniamo con i nostri healer hawk un po' di pozioni ce le abbiamo se fa 1 va a 11 ed è anche relativamente vicino al castarlo nissa nissa te la tolgo tipo subito ok andiamo a 21 togliamo subito nissa via nissa in cassa avrà bisogno del suo mana per far cose teniamo questo ci libera da eventuali idroidi lui è basso ok arriva l'idroide va bene lui non ci libera dall'idroide così piccola ma così piccola ci preoccupa relativamente cioè qua come i top player veri in realtà andiamo effettivamente a pescare conclave tribunal gli togliamo l'idroide paghiamo ma con gioia andiamo a 18 lui ha 2 abbiamo il giant killer casca 6 tanto ha perso una terra in questo magico mondo delle magic sì niki da ruma niku da roma nicola da roma capito allora mi piace un sacco l'apostolo mi piace un sacco unbreakable formation mi piace un sacco conclave tribunal mi piacciono tutti voi amici ma vorrei avervi tutti con me nel mio magico mazzo allora l'asceso è un casino sulla draw l'inda è un po' lenta ranger of eus mi piace andiamo a prendere giant killer casca 6 e l'alseide dobbiamo togliere quattro carte allora talia mi ritarda anche i miei amici planeswalker e i miei amici removal proverei a toglierla non sono sicuro 100% sia la scelta più giusta ma proviamo siamo qua anche per testare il rischio di tutto questo è che lui mi vada a giocare questing beast visto che alcuni ce l'hanno vedendo le liste in giro giro va bene va bene dai togliamo una jani siamo sulla draw poi sulla play ci ragioniamo ma speriamo di fare un secco 2-0 contro Nicola da Roma ok questa è una mano interessante lui può farci scartino e toglierci il pride mate in quel caso ci inchiodiamo però abbiamo due carte da pescare dai e lui deve avere lo scartino va bene un sacco di canclave tribunal per togliergli planeswalker e cose brutte lui ha lo scartino 100% non mi stupire oh dio santo dammi una terra aiuto terra uro se ho terra faccio black blade gli diamo lifelink no va bene terra terra mazzo ascoltami lovstack beast e se mi frega se mi frega e mi attacca siamo calmi growth spiral terra altro esatto sapevo che mi volevi fregare qua avessi fatto giteon saremmo stati un po' in difficoltà invece così siamo proprio tranquilli come una pasqua allora uno due tre quattro va bene facciamo ranger de eos take action giant killer facciamo la warden che così la attiviamo subito prossimo turno ok 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 un edge hmm un giga pride mate non è che mi faccia proprio volare però non può neanche ancora attaccare eliod si eliod attacca abbiamo doppio removal lui ora magicamente andrà a farnissa e io con doppio con clave tribunal ristabilizzerò la board yep si 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 il pride mate muore eliod rimane lì tranquillo e adesso farò il conclave tribunal sulla bestia sulla bestia oppure faccio gideon tappo bestia attacco faccio cose faccio cose ma è se potenziamo lui aspetta fammi ragionare io voglio salvare lui dalla love stuck beast ma diamogli a lui vigilance e risolviamo un po' tutto voglio pressare i danni vorrei tenere i conclave tribunal posso dire se lo dico quindi attacco solo con elio abbiamo giant killer per bloccare la love stack abbiamo elio per bloccare e basta siamo stabili a punti vita facciamo un sacco di cose divertenti e basta così io ottengo da parte i miei conclave tribunal il prossimo turno riesco abbastanza a chiudere ho la tappata di questing beast tolgo bloccanti giriamo con 20.000 cose easy lui ha 3 carte in mano volendo fa uro nope no a meno che non veda terra qua potenzio ranger si può fare uro che noi con agilità andremo a tappare allora lui non attaccherà con questing beast con love stack beast comunque potenziamo il ranger di eos non ha senso che lui attacchi abbiamo elio contando che io tolgo uro gli tappo love stack ok va bene questo lo faccio qua poi uro se ne va lui è costretto a bloccare con l'uno uno diamo life link a sto punto a indifferente andiamo a vedere ok 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 eh pup mmm diff facciamo così così love stack beast la blocchiamo con daxos e se siamo disperati con la soul warden se riesce a mettere un uno uno out of nowhere se fa aoe va bene a sto punto potenzio daxos lui ha ancora due mana open potenzialmente tre eh con due mana può toglierci daxos ce l'ha effettivamente tolto maneremo di soul warden che devo fare becchiamo solo la soul warden giusta eeeh si io qua vado aggressive vado anche aggressive perché è little quindi easy ecco perché cioè tutto calcolato gg qui è